Sì, bene, una bella vittoria, una bella vittoria cresciuta soprattutto nel secondo tempo, abbiamo preso un po' più di coraggio, potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, però il primo tempo abbiamo sofferto tanto, anche perché è una squadra avversaria, una squadra corta, una squadra organizzata, al primo tempo diciamo che c'è stato un po' di predominio da parte loro, però il secondo tempo siamo usciti, siamo usciti bene, abbiamo sfruttato poco, alcune ripartenze, alcune situazioni di tre contro due, di quattro contro due, potevamo fare qualcosina in più, però me la tengo bella stretta questa vittoria perché si potrebbe venire uno scontro diretto, abbiamo fatto una grande partita dopo tutto il secondo tempo. La seconda domanda, non mi chiedete se già faccio partita un po' a commentare alla mia squadra, mi chiediamo se vi posso permettere di commentare le altre, soprattutto a un allenatore non capace di più. Per quanto riguarda l'atteggiamento, cercate non soltanto di sfruttare le qualità dei nostri ragazzi, che magari non è proprio la qualità in sé per sé, ma è la voglia di correre, di ricorrere, perché questa è la nostra forza, in più magari il gruppo, i ragazzi che sanno delle difficoltà in questa categoria e vanno ottenendo le forze per andare a correre, per non avere paura, perché siamo venuti a giocarci la partita, anche se la perdevamo, anche non ci stava, perché noi abbiamo lasciato tante volte, tre di versione nostre con i tre attaccanti loro, perdevamo e anche non ci stava, non faceva assolutamente magari un po' di coraggio.